Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Malta e oggi siamo qui con il video presentazione del canale è da una settimana, 10 giorni che ho preso a fare video e volevo spiegarvi nel dettaglio in cosa consiste questo canale voglio dividere il canale in due parti, essenzialmente la parte Fortnite dove vi porterò live sempre in compagnia di Franca, di Zack, di Mori e tutti gli altri miei amici che poi vorranno partecipare al delirio e portarvi anche dei video con news, eventi che succedono nel gioco, le varie stagioni che si succederanno sempre all'interno di questa fantastica battaglia reale e moltissimi altri contenuti come per esempio video divertenti, montaggi di fail, fail vari, cavolate che si sparano in chat con i miei amici la seconda parte invece che è un progetto più ambizioso in quanto richiederà maggiore dispendio di tempo è la seguente, voglio portare contenuti legati agli anime, anime più o meno famosi che possono spaziare da Dragon Ball fino almeno conosciuto magari Angel of Death o Blend S per farvi qualche esempio novità riguardanti giochi in uscita degli anime, ve ne faccio alcuni esempi per quanto riguarda questo periodo storico come per esempio Jump Force o My Hero One Justice gameplay sempre di questi videogiochi in uscita per farvi vedere un po' come sono e magari anche delle recensioni inoltre pensavo di portare le news degli anime e dei videogiochi legati agli anime una volta a settimana sul canale e eventuali recensioni di videogiochi in uscita detto questo spero che il video vi sia piaciuto, che sia riuscito ad attirare la vostra attenzione se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi, mettete un bel mi piace al video e condividetelo con i vostri amici vi ricordo che nella descrizione trovate il link della mia pagina instagram fateci un salto se ne avete voglia e noi ci rivediamo in un prossimo video bella ragazzi